a tutti un caro saluto da francesco samani dopo aver aiutato centinaia di insegnanti a preparare il concorso aspiranti insegnanti proprio a preparare il concorso per diventare docenti docenti di ruolo mi ritrovo a nutrire il desiderio di estendere la stessa opportunità anche agli studenti quindi voglio provare a creare video che passo dopo passo possono essere delle piccole luci dei piccoli aiuti che ci aiutano nella basso mare della conoscenza quindi ho già cominciato a creare un breve corso che si sta arricchendo di volta in volta un corso sulle derivate che sia anche di ausilio di aiuto alla preparazione degli esami di maturità quindi cominciamo subito vediamo il primo esercizio la nostra funzione y è uguale al logaritmo naturale del seno di 3x più 1 ricorderete che vi avevo dato delle formule generali di estrema utilità per risolvere tutte le derivate e ripercorriamo questa formula qui se y è funzione di x tramite la funzione z allora la derivata di y rispetto ad x è uguale al prodotto della derivata di y rispetto a z per la derivata di z rispetto a x e vediamo subito questo caso non ho solamente logaritmo di x e nemmeno il seno di x ma il logaritmo del seno di 3x più 1 quindi dovremmo prima applicare la derivata al logaritmo e sappiamo che la derivata questo ve lo ricordo a del logaritmo di x è 1 su x in questo caso noi abbiamo la derivata del logaritmo di una funzione di x e quindi in questo caso la sua derivata sarà 1 sulla funzione di x seno di 3x più 1 però l'esercizio non si ferma qua perché adesso dobbiamo andare a fare a produrre la derivata prima del seno di 3x più 1 che è proprio il coseno di 3x più 1 e ancora non abbiamo finito perché a questo punto manca dobbiamo fare la derivata di 3x più 1 che è 3 quindi dobbiamo fare essenzialmente tre derivate coseno di 3x più 1 fratto seno di 3x più 1 è proprio la cotangente e allora possiamo riscrivere tutto come tre volte la cotangente di 3x più 1 l'esercizio è finito proviamo adesso a risolvere l'esercizio tre volte coseno alla quarta di 2x più 1 qui dobbiamo applicare la formula generale in cui la derivata di x alla n è nx alla n meno 1 in questo caso abbiamo f di x abbiamo una funzione di funzione e quindi come procederemo intanto la costante in questo caso si riscrive 3 n nel nostro caso è proprio uguale a 4 quindi 3 per 4 coseno alla n meno 1 quindi alla 4 meno 1 che è 3 di 2x più 1 per la derivata del coseno la derivata del coseno è meno seno quindi meno sposto un pochettino questa parte qui per non avere problemi meno seno di 2x più 1 per la derivata di 2x più 1 la derivata di 1 è 0 perché è una costante la derivata di 2x è 2 per 2 vediamo i segni abbiamo tutti i segni positivi tranne un meno e quindi il nostro risultato sarà negativo 3 per 4 12 per 2 24 coseno alla terza di 2x più 1 per seno di 2x più 1 fine dell'esercizio ancora y è uguale a 12x per 3 elevato alla seno di x più 1 in questo caso ci rendiamo subito conto che abbiamo un prodotto di funzioni e quindi se vi ricordate la formula che abbiamo detto l'altra volta dobbiamo essenzialmente fare la derivata del primo quindi di 12x che 12 per la seconda funzione non derivata quindi seno 3 elevato al seno di x più 1 più il primo prodotto non derivato per la derivata di 3 elevato al seno di x più 1 vi ricordo che se abbiamo un numero elevato a x o a f di x la sua derivata prima è a alla x per logaritmo naturale di a quindi essenzialmente dobbiamo riscrivere 3 elevato al seno di x più 1 per logaritmo naturale di 3 e infine dobbiamo andare a derivare il termine seno di x più 1 che è proprio coseno di x più 1 mi sembra che possiamo mettere in evidenza 12 per 3 elevato al seno di x più 1 mettiamolo in evidenza 12 per 3 elevato al seno di x più 1 tutto questo che moltiplica 1 più x logaritmo naturale di 3 per coseno di x più 1 bene abbiamo risolto anche questo esercizio lasciatemi nei commenti una osservazione relativamente a quello che pensate se avete suggerimenti se avete richieste particolari con questo io vi auguro una buona continuazione di giornata